Gol mai banali, quelli di Federico Zenuni con la maglia della Virtus Francavilla. Nel match contro l'Avellino, il centrocampista italo-albanese si è reso protagonista di un altro gol spettacolare. Ha calciato di prima intenzione con un tiro di rara potenza e una traiettoria imprendibile per chiunque. Se è vero che è il primo gol in stagione, è anche vero che non è il primo gol in generale con la maglia della Virtus Francavilla, bensì il secondo. Aveva aperto le danze dei gol a Catanzaro lo scorso anno, dove con una bordata da oltre 25 metri, ha spedito la palla nell'angolino, anche qui una traiettoria imprendibile che ha tolto le ragnatele dall'incrocio. Ragnatele che aveva tolto anche domenica scorsa contro l'Avellino, un gol che avrebbe regalato agli imperiali tre punti pesantissimi per l'economia della classifica, ma anche e soprattutto per il morale della squadra. Pareggiano una partita dove esser passati in vantaggio non è mai bello, ancor più frustrante lo diventa se gli avversari recuperano con un calcio di rigore in pieno recupero. Tra l'altro anche abbastanza evitabile. Un fallo ingenuo, quello di Albertini, che comunque va accettato, compreso e subito perdonato per un calciatore che ha sempre dato tutto per la squadra e forse anche di più, dove si è sempre reso protagonista di prestazioni sopra la media, dettate da tanta corsa e sacrificio. Adesso però il pareggio contro i Campani va subito dimenticato per pensare alla prossima partita, molto dedicata contro la Ternana.